I ragazzi della baciata nel frattempo si vanno a cambiare, domandate chi si è andorto, intanto le figure da scemo le faccio sempre quindi sono vestite in modo strano, non preoccupatevi. Aspettate un attimo un cambio di abito, perché c'è anche Ivan che farà questa coreografia quindi il tempo di cambiarlo, veloce, è già pronto? Mi do l'anteprima perché è una coreografia bellissima, i ragazzi sono fantastici. Lo sapevo, lo sapevo, sono qua, tutti sentono una tensione qua nell'angolo, c'è la Margherita che le tiene perché? Io conoscevo delle facce sorridenti, no? E' un po' altre qua, in mezzo quest'anno. Intanto guardiamo se il G.D. è l'anamorazione giusta. La luce no? La dobbiamo spegnere la luce. Quindi vi ricordo che sono i nuovi ragazzi che hanno imparato quest'anno, con diversi maestri. e Omar e la Margherita che hanno messo insieme per fare questa bellissima coreografia. E fare la coreografia del Saggio Venezolano è una delle cose più difficili da fare. Oh ma ci sono già tutti eh! Ci sono già tutti? E' incredibile ma vero? No, mi sono dovuto togliere la pelata. Quindi... Aspetta che controllo. So che tu sei sempre lì, Giovanna. Ormai fremono eh! Ehi, qualche una biazza che viños Ed theological, Magari. Ehi Veronica! Guardate! Yori他的歌. Ma non ave! Ehi Veronica! Hay Coll的時候 che non ci sono ve? Questa può che seduta? Qui... Dere ragazzi! Ma non ci sono ve? Vi siamo tutti. Il nostro feat. Vi allons goals nole. Ehi Veronica è un po' il tuo? Ehi Veronica è un po' il tuo nome da loro nascoa Capitoloesselso. Ehi Veronica è un po' l'Can. Grazie. 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 Una chiamata domanda. E' un'altra cosa da noi. E' un'altra cosa da noi. Abbiamo recuperato le nostre ammigliate di giro per tutto il Coripa. io devo ringraziarli perché si sono apprezzati anche a questo gioco perché loro si è tagliati i capelli apposta come vedete quindi noi siamo sempre emozionati quando vediamo questi ragazzi devo ringraziare anche Ivan perché ha fatto una sudata atomica per fare le corse e partecipare anche lui eh sì io vi ringrazio tutti, tutti, tutti mi chiedo io adesso posso scappare un altro per il diametro non sparite perché vi devo dare il pass per lunedì ok? dopo vi ringraziare in qualche sana grazie, grazie, grazie grazie, grazie grazie, grazie 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 grazie